Una questione di somme, o meglio, di costi. Da oggi Margherita di Savoia non ospiterà più gli allenamenti della Salinis, società che milita nella Serie A di Calcio A5. Ieri sera gli agenti della Polizia Municipale hanno chiuso le porte della struttura, concedendo alla società sportiva gli ultimi dieci giorni per portare via le ultime cose. Il problema, come detto, è nelle cifre. Dal 2013 il tenso statico era stato dato in concessione al club Rosanero, secondo un accordo ben preciso. La società di Futsal avrebbe dovuto pagare le spese di acqua, luce e gas, mentre il canone sarebbe stato calcolato tenendo conto degli interventi fatti dalla stessa Salinis sulla struttura, in stato di semiabbandono. Niente sconti sulle utenze, dunque, ma quanto ai soldi da versare al comune, sarebbero stati calcolati al netto di quelli spesi dalla Salinis per tenere in piedi il tenso statico. E qui ci sarebbe stato l'intoppo. Secondo il presidente della società, Salvatore Forte, ai rosa nero sarebbero stati addebitati costi troppo elevati, circa 30.000 euro. Una somma che non terrebbe conto, sostiene Forte, dei lavori fatti nella struttura e che farebbero scendere la cifra da versare nelle casse comunali a non oltre i 18.000 euro. Di tutt'altro parere è il vice sindaco ed assessore allo sport di Margherita di Savoia, Angela Cristiano. La Salinis, dal 2013, non avrebbe mai pagato al comune alcun canone di concessione che, da contratto, sarebbe stato pari a circa 2.500 euro annui. In più, lo stesso comune avrebbe provveduto al pagamento di tutte le utenze accumulate in questi anni. Un'inadempienza che la società di Futsal avrebbe giustificato alla luce delle spese sostenute per alcuni lavori realizzati nella struttura, di cui, però, non avrebbe presentato alcuna rendicontazione. Da qui la decisione dell'amministrazione comunale di risolvere il contratto di concessione, alla quale ha fatto seguito, poco prima dell'estate, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della società Rosa Nero. Ma la sentenza del TAR ha dato piena ragione all'amministrazione comunale. Una sentenza, sottolinea il vice sindaco, ignorata dalla Salinis, che avrebbe continuato di soffrire dell'impianto sino all'ordinanza di sgombero del comune. Al momento non sarebbe stata presa nessuna decisione in merito alla destinazione ed uso della struttura, anche se la speranza del vice sindaco è che possa continuare ad ospitare eventi sportivi. Insomma, 0-0 è palla al centro. In quale campo? Non si sa.